questo è un esercizio per calmare il respiro prima di una meditazione l'obiettivo qui è semplicemente dimenticarti che stai respirando non di forzare la respirazione ma diventare inconsapevole e rilassarti completamente permettendo quindi a te stesso di ascoltare la meditazione è molto importante innanzitutto di rendere te stesso più comodo possibile se sei seduto non c'è nessun bisogno di sederti in maniera rigida e dritta e allo stesso modo non appoggiarti indietro in modo da chiudere il tuo respiro trova la posizione che ti permetta di essere confortevole per alcuni minuti comincia questa meditazione respirando normalmente per un pochino permetti ai tuoi pensieri di andare e venire come vogliono adesso nota come automaticamente senza sforzo stai respirando mentre la tua mente sta saltando tramite pensieri da un soggetto all'altro nella tua testa pensa come l'aria si muove dentro e fuori dai tuoi polmoni e adesso concentrati su dove l'aria sta entrando all'interno del tuo corpo naso o la bocca ogni volta che respiri di nella tua testa la parola pace quando espiri immagina che stai buttando fuori tutto la tua fatica il nodo di tutti i tuoi pensieri metti la tua mano sul tuo plesso solare e lascia che resti lì immagina di stare guardando fuori da una finestra una piuma bianca aleggia nell'aria si alza e si abbassa con ogni respiro che tu inspiri o despiri gentilmente molto delicatamente guarda la piuma e il respiro insieme finché il tuo respiro non si calma e diventa rilassato e senza sforzo non si calma e vedi Grazie a tutti.